Mio papà in mente, mio papà, insieme a mia mamma, chi lo sa, desideravano non me, ma un altro bambino, uno è arrivato un costruttore, un presidente da onorare, un uomo comunque da invidiare, un altro bambino, e no, e no, non è questione di cellule, ma della scelta che si fa, la mia è di non vivere a metà, io comunque, io comunque vado, sia morto in alto, che nella strada, sicuramente anche lei, anche se non l'ha detto mai, desiderava meno guai, un altro uomo, un uomo tranquillo su cui non andare, che si lasciasse un po' guidare, un po' più facile da capire, un altro uomo, che no, e no, e no, non è questione di cellule, ma della scelta che si fa, la mia è di che non vivere a metà, io comunque, io comunque vado, sia morto in alto, che nella strada, e certamente c'è qualcuno, o forse molti o nessuno, e certamente c'è qualcuno, o forse molti o nessuno, che fa programmi su di me, per il futuro, un altro discorso inaugurale, o un importante funerale, che possa razionalizzare, il mio futuro, e no, e no, non è questione di cellule, ma della scelta che si fa, la mia è di non vivere a metà, io comunque, io comunque vado, sia morto in alto, che nella strada, Grazie a tutti